Ciao a tutti, oggi parliamo di Secret Window, un film di David Coepp che è un famoso sceneggiatore come regista, in realtà non mi sono molto informato su quali film abbia diretto, però questo è diretto da lui. Abbiamo come protagonista principale Johnny Depp che attrae moltissimo pubblico a vedere questo film e ancora attrae, infatti è considerato una delle interpretazioni migliori a realtà di Johnny Depp e si tratta di un thriller psicologico se vogliamo, però non del tipo alla Shutter Island o altri, ma molto più rilassato, non so come dire, ma ha toni più rilassati, è un film molto più calmo, che quasi addirittura ha scene che possono essere anche considerate divertenti e quindi è per questo motivo che funziona, perché è un film che forse è un film che ha dei toni molto rilassati, cioè è un film molto calmo che procede con un ritmo molto blando, ma che però è comunque blando ma comunque crescente fino al finale che spiega tutto, però sempre con la sua calma e la sua rilassatezza, quindi è per quello che è un film da vedere proprio quando si vuole vedere qualcosa di intelligente, di interessante, di curioso, ma comunque con il cervello abbastanza spento, anche se in realtà bisogna stare attenti su alcuni dettagli, ma comunque che rilassa, è un film quindi che rilassa secondo me, e quindi, perché è un film semplice, quindi in realtà un film che suggerire a chiunque non è un tipico film che dici, come, so, Shutter Island non è che lo puoi proporre a tutti, ma invece un film come questo è comprensibile da tutti, è proponibile a tutti e quindi è fruibile da tutti e quindi forse è per questo motivo che ha avuto grande successo. Quindi di cosa parla questo film? Parla di un scrittore che anni prima appunto ha pubblicato una storia abbastanza di successo, quindi probabilmente anche i suoi fan, che però appunto subisce un trauma nel senso che trova la sua moglie, che presto sarà ex moglie, ha letto con un altro uomo, quindi la sua moglie lo ha tradito e la reazione sei mesi prima degli eventi del film è terminata, però è terminata appunto in una maniera molto appunto traumatica e forte e questo sta causando appunto una certa depressione, una tristezza, un isolamento da parte di Johnny Depp che infatti decide di vivere, non so se sono gli ultimi sei mesi appunto, questi sei mesi, comunque nel presente, qui nel momento il film è narrato, sta vivendo in una casa isolata, adesso non so bene dove, comunque in campagna, l'unico contatto che ha è con questa donna delle pulizie, con questa donna che lo aiuta a cucinare, a pulire la casa, a tenere in ordine, che passa ogni tanto e niente, lui passa in realtà tutto il tempo a dormire più che altro, più che a scrivere, probabilmente lui è andato lì per poter scrivere un nuovo libro, qualcosa o sicuramente anche per superare il trauma, per insomma per curarsi, per insicura di sé e quello che fa principalmente invece che scrivere, non riesce a farlo perché noi comunque ha la sua zona di lavoro, lo vediamo che ha scritto qualche frase di un nuovo libro probabilmente ma sono pochissime, sono tipo quattro linee che in realtà parlano della sua storia, non parlano di un altro libro, non parlano di un altro libro e quindi in realtà passa il tempo a dormire sul divano, qui dorme sul divano, ogni tanto risponde al telefono litigando con la moglie, ogni tanto si fa delle passeggiate e niente, passa il suo tempo in questo modo, quindi una fase un po' di stallo della sua vita, che però diciamo in realtà tutto abbastanza normale, non vediamo niente di strano fino a un certo momento in cui, in cui vediamo invece, in cui lo vediamo svegliarsi all'improvviso perché qualcuno sta bossando la porta, lui abbiamo detto, ha soltanto rapporti con questa donna che lo aiuta a pulire, invece bussa la porta a un uomo molto strano, interpretato dall'attore John Turturro, che ricordiamo in Le grandi moschi che faceva Jesus, quindi un attore molto divertente, molto carismatico, che piace molto, che è vestito in una maniera abbastanza strana, con questo cappello, un grande cappello, con questa faccia anche particolare, e soprattutto con questo modo di parlare, molto strano, quasi come se si bilasse, comunque un comportamento molto strano, non soltanto è strano l'apparenza, ma è strano anche il modo in cui si comporta, infatti è molto aggressivo nei confronti di Johnny Depp, che poi il personaggio si chiama Morton Rainey, però lo chiamerò Johnny Depp, nel senso che è molto aggressivo, e perché è aggressivo? Perché gli dice, lo minaccia, dicendo, tu devi pagarla, perché il libro che hai scritto tempo fa, in realtà l'ho incopiato da me, cioè io avevo già scritto questa storia, io avevo già scritto questo libro, tu me l'hai rubato, e lo hai pubblicato, e sei anche diventato famoso, quindi come hai osato fare una cosa del genere? Di tutta risposta, Johnny chiude la porta in faccia, insomma, dice, ma sei pazzo, io questo libro l'ho scritto da solo, di certo non l'ho copiato da nessuno, e quindi lasciami in pace. L'aggressività di questo gioco torturo per il momento si ferma qui, però quello che fa prima di andarsi è lasciare il manoscritto, comunque il libro che aveva scritto, in cui noi scopriamo anche il nome del personaggio, che è John Shooter, alla porta di Johnny Depp, con una pietra solo per non farlo volare, e quando Johnny Depp lo trova, all'inizio lo butta via, però la donna delle pulizie poi lo recupera, e lui finisce per leggerlo. Leggendolo, a parte che vede il nome John Shooter, si rende conto di, insomma, viene conoscenza di questo personaggio, che poi diventa praticamente un suo nemico, almeno conosce il nome, quindi volendolo può denunciare, ma in più può anche vedere la data di questo libro, può vedere la data del libro che gli è stato dato, e lui dice, beh benissimo, io so che il libro che invece ho pubblicato io tempo fa, l'ho pubblicato anni, o uno, o qualche anno prima, del manoscritto di John Shooter, quindi non c'è problema, una volta che recupero la pubblicazione, la mia pubblicazione di qualche anno prima, posso dimostrare a questo pazzo che io il libro non l'ho rubato perché l'ho scritto prima. Però questa storia non funziona molto bene perché allora John Shooter in realtà è molto violento, gli uccide addirittura il cane, nel paesino in cui sta isolato Johnny Depp in realtà nessuno lo vuole aiutare, quindi la stazione di polizia nessuno lo vuole aiutare, non lo ascoltano, pensano che la sua storia sia assurda, e lui dice, guardate che c'è davvero quest'uomo che mi sta perseguitando, mi sta minacciando, ho paura per la mia incolumità, poi paga un avvocato per essere protetto in casa perché ha paura che questo John Shooter appaia di nuovo e non so, lo possa uccidere o fare altro, e tutte queste paure comunque sono, in realtà sono giustificabili, cioè questo personaggio è davvero strano, questo John Shooter è davvero violento e è davvero convinto che Johnny Depp gli abbia rubato il libro. Il film è pieno di elementi strani, pieno di dettagli che noi non capiamo fino al finale, o meglio forse addirittura non li capiamo finché non vediamo il film per una seconda volta. Ci sono tanti dettagli sulle sigarette per esempio, dettagli sul telefono fisso che suona o non suona in modo strano diciamo in casa dei giorni Depp, poi abbiamo delle testimonianze anche particolari e anche eventi super assurdi come ad esempio a un certo punto vedremo ci sarà un incendio, tutti questi piccoli elementi sono in realtà super comprensibili alla fine del film, quando si rivela il finale, perché comunque è un thriller psicologico quindi aspettiamoci un finale sorpresa e collegheremo tutti questi piccoli pezzi, questi puzzle a una seconda visione oppure appunto parlandone dopo la prima visione, però come dicevo nonostante ci siano questi elementi, questi dettagli che uno deve seguire o altro, il film in realtà è molto semplice, è appunto rilassato, è anche rilassante per noi a vederlo, quindi non c'è da spaventarsi nel vedere qualcosa che è di complicato perché appunto non c'è bisogno di vedere film in le volte o di cercare su internet delle spiegazioni o altro, cioè il film è super chiaro e a me e sinceramente dei film così piacciono molto perché certo a volte sono belli quei film in cui devi leggerti su internet le spiegazioni o tutto, però io credo che se dei film sono così complicati che devi leggerti su internet dei simbolismi o delle cose che dal film stesso non sono spiegate, beh ha un effetto minore che non è film come questo tipo, molto più semplici in cui al finale tutto è chiaro, ci devi pensare un attimo, però tutto è molto lineare e comprensibile, quindi non hai bisogno di poi informarti su internet su simbolismi o altro. L'unica cosa che mi ha lasciato il film di curiosità è andare a leggermi il libro, il libro di Stephen King si chiama non soltanto Secret Window ma si chiama Secret Window Secret Garden, quindi finestra segreta, giardino segreto, al finale si capirà il perché e niente, l'unica curiosità è questa per vedere le differenze, per vedere se ci sono dettagli in più, però da quanto so credo sia soltanto un piccolo racconto pubblicato in un libro con 4 racconti al suo interno, quindi non è un libro grande come Hit o altro, quindi è un piccolo racconto da cui è stato poi tratto questo film e probabilmente c'è anche guadagnato tanti soldi perché appunto il budget probabilmente non era molto alto e il racconto molto semplice, poi già scritto da qualcun altro, quindi c'è non solo guadagnato, poi mettendoci Johnny Depp con questo aspetto un po' trasandato ha sicuramente fatto un po' di fatto, ha sortito un effetto perfetto questo film. Ora faccio una parte spoiler in cui spiego un attimo le cose che sono strane ma che poi sono comprensibili. Allora la prima cosa strana che notiamo è il concetto del fumare o non fumare, cioè noi vediamo che Johnny Depp dice sempre no ma io non fumo quando gli vengono proposte sigarette, però poi lo vediamo in casa al piano di sopra quando sta nella sua zona di studio che fuma e lo tiene nascosto a questa donna appunto delle pulizie. Poi a un certo punto vediamo John Shooter che gli offre una sigaretta da un pacchetto rosso di Paul Mall credo, con una sigaretta già fuori, gliela offre e lui non l'accede, Johnny Depp non l'accetta perché dice no non fumo. Successivamente vediamo questo stesso pacchetto ripreso per ben 10 secondi nel piano di sopra di Johnny Depp, quindi noi non sappiamo ancora del finale, non sappiamo dare spiegazioni però ci chiediamo perché quel pacchetto di sigarette che aveva prima in mano John Shooter adesso è al piano di sopra perché sembra proprio lo stesso pacchetto di sigarette e effettivamente scopriremo alla fine del film, cioè ci penseremo e diremo sì è lo stesso. Quindi le prime cose strane che succedono, i primi indizi sono basarsi sui pacchetti di sigarette e il concetto del fumare. Poi altri elementi strani nel film sono il telefono, il telefono fisso, verde, che suona in momenti troppo, che sono una coincidenza troppo esagerata, cioè questo telefono suona, non so, proprio quando Johnny Depp si aspetta che suoni, cioè è incredibile, a un certo punto c'è Johnny Depp che sta dormendo sul letto, anzi no, sta mangiando delle patatine, fissa il telefono, aspettandosi una chiamata, tra l'altro noi non capiamo perché dovrebbe aspettarsi una chiamata, perché se la sta aspettando, comunque guarda il telefono e si immaginerà probabilmente una chiamata dall'ex moglie, la chiamata non arriva, allora cosa fa lui? Si alza e noi vediamo che il telefono era staccato, quindi ovvio che non sarebbe mai arrivata una chiamata, allora dice vabbè lo connette e appena lo connette la chiamata arriva e quindi noi non capiamo com'è possibile, cioè e anche lui, Johnny Depp fa uno sguardo strano, come dire, mi sembra troppo strana questa coincidenza e dopo capiremo il perché, infatti in questo caso, perché è successo? Perché Johnny Depp aveva fatto qualcosa, ovvero aveva incendiato la casa, la sua vecchia casa dove l'ex moglie vive con Ted, quindi chiaramente dopo un incendio si sarebbe aspettato una chiamata dall'ex moglie, sapeva esattamente quando lei avrebbe chiamato, più o meno, e quindi connette il telefono proprio dopo che è successo l'incendio, il fattaccio e tutto, eccetera. Oppure sapeva che lei avrebbe continuato a chiamare a raffica finché lui le avrebbe risposto e quindi lui con le connette avrebbe ricevuto una chiamata. Poi c'è un altro elemento dopo in cui riceve la chiamata proprio appena entra in casa, precisa, quindi sigarette, il telefono, sono indizi che possiamo, diciamo, seguire. C'è un'altra scena strana che però non ho alcun tipo di, secondo me non so, non c'ho trovato il significato, ma quando Johnny Depp va dalla, dal, come si chiama, dallo sceriffo, per dire, guarda c'è questa persona che mi sta perseguitando, eccetera, eccetera, potete fare qualcosa per aiutarmi, ha anche ucciso il mio cane, quindi sta dicendo, lui è super stressato, sta dicendo cose super pesanti, super dure le raccontare, di fianco, mentre intanto il sergente, come si chiama, lo sceriffo non ascolta, al fianco c'è una ragazza che sta parlando il telefono in modo molto frivolo, cioè scherzando, che poi guarda, quando i due scambiano gli sguardi con Johnny Depp, subito smette di essere così frivola, forse mettendo giù il telefono diventa seria, e Johnny Depp fa un, non so, la guarda, fa un piccolo sorriso e poi lascia perdere, continua a parlare con lo sceriffo, questa scena non l'ho capita, forse non c'era nessun significato, forse era semplicemente, insomma, non ridere perché sto parlando di cose serie, però questa scena forse ha un qualcosa, perché che senso avrebbe mettere questa scena se non ha alcun tipo di significato, quindi forse c'è un significato che io non ho colto, e basta, poi altre scene che possono dare indizi interessanti sono, per esempio, a un certo punto c'è un incontro molto violento tra i due, tra John Shooter e Morton Rainey, quindi Johnny Depp, in cui Morton Rainey gli dice, non so se sono più arrabbiato, perché tu mi hai rubato il libro, quindi la storia, o perché non solo hai rubato la storia, ma hai cambiato il finale, forse sono più arrabbiato perché hai cambiato il finale, e lì spiega il finale, e nel finale dice, e alla fine lui la uccise, e la sua morte fu un mistero, diventò un mistero anche per lui stesso, per se stesso, e quindi tu capisci che forse di chi sta parlando, forse sta parlando della moglie, perché alla fine nel film l'unica donna principale, importante, che compare è proprio la moglie, quindi forse sta parlando di uccidere la moglie, qualcosa relativo alla moglie, infatti poi sarà così, a meno che certo uno potrebbe anche pensare invece la donna nelle pulizie che l'altra donna che appare nel film, poi altri indizi che mi vengono in mente, non ce ne sono questi più che altro, e poi il finale è super interessante, è molto bello perché all'inizio vediamo come lui cambia di aspetto, cambia occhiali, si mette dei denti differenti, questo forse lo fa per allontanarsi da quello che era prima, quindi come dire, sono rinato, sono nuova persona, quindi cambia, forse per non farsi riconoscere o per non riconoscere se stesso quando si guarda allo specchio, e lo vediamo lì che mangia le sue pannocchie, e poi capiamo perché sta mangiando le pannocchie, da dove arrivano queste pannocchie, cioè arrivano dal campo di grano che sta proprio a fianco della casa, sotto quella finestra segreta che la sua ex moglie aveva scoperto un giorno, e qui capiamo in modo molto chiaro che sia Ted che la moglie sono stati seppelliti lì, cioè lui ha ucciso, li ha uccisi, li ha seppelliti lì, quindi in realtà dietro Johnny Depp ci sono una valanga di omicidi, in realtà non soltanto questi due, ma anche l'avvocato di colore, un altro cittadino lì del paese, insomma ha ucciso varie persone, però è come se fosse contento, come se fosse felice, e come se si sentesse libero, e alla fine il sergente lì, lo sceriffo del paese, gli dice un giorno ti prenderò, un giorno avrò più indizi che ti porteranno in prigione, però per il momento non riescono a scoprire nulla, per questo è il giardino segreto, perché è segreto, quindi sarà difficile di investigare. Nel paese quindi tutti sanno che lui è un omicida, un serial killer, in realtà è stato un killer, perché adesso si è calmato ovviamente, ha raggiunto il suo obiettivo e ha superato il trauma in questo modo molto esagerato, e tutti lo sanno però non hanno indizi per scoprirlo, forse li avranno in futuro, ma non si sa, e lui quindi adesso è tranquillo in questa casa, a continuare la sua vita, nonostante un giorno forse il trauma di quello che ha fatto gli tornerà, e forse tutto uscirà fuori da lui, uscirà fuori e lui impazzirà nuovamente, perché chiaramente prima era impazzito, perché John Suter era niente altro che era che il suo alter ego, un personaggio che lui si era inventato anni prima, e che ha riproposto, che la sua mente ha riproposto per, diciamo, fargli fare quello che lui non aveva il coraggio di fare, perché alla fine John Suter non ha fatto altro che, nient'altro che portare Johnny Depp a fare quello che lui sentiva dentro di fare, ma non aveva il coraggio, e quindi l'ha fatto fare a qualcun altro, ma in realtà l'ha fatto fare al suo alter ego, quindi è lui che poi ha fatto tutto ciò. E niente, quindi il film ha un grandissimo finale, inaspettato, ha un grandissimo plot twist, quindi un colpo di scena anch'esso inaspettato, e poi è divertente rivederlo, perché appunto si possono notare magari ancora più indizi di quelli che ho citato prima, e dire che forse ci si poteva arrivare prima al finale. E quindi è un film non soltanto rilassante, godibile, ma anche divertente, perché accende un po' il cervello senza esagerare, quindi chiaramente consiglio a tutti. Secret Window del 2000, in realtà non mi ricordo la data, scusate, 2004, di David Coep con un grandissimo Johnny Depp. Alla prossima!